Gesù non è venuto a portare una religione, Gesù è venuto a portare la salvezza, a portarci la vita eterna. Gesù è venuto a cambiare la nostra vita. Ho invocato Gesù per la prima volta, quella sera, nella mia auto, ho sentito la presenza del Signore. Il Signore quella sera mi ha salvato, ha tolto quel peso che era dentro di me, tutte quelle ansie, tutte quelle paure, tutte quelle preoccupazioni. Quando mi salvasti, Signore, scendendo fin nella fossa del cuore. Gesù va direttamente al problema essenziale nella vita di ogni persona. Tu hai bisogno, noi abbiamo bisogno, tutti quanti, di rinascere interiormente, spiritualmente, una nuova nascita. Grazie. 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 Grazie.